Ciao ragazzi, io sono Nicodine e sono ritornato con un nuovo video, nuova sfida, incontri principali Atletico vs Real Madrid. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, lasciate un mi piace, attivate la campanella. Questa è la mia proposta per la sfida di oggi. Come ben sapete, questi sono i giocatori che io ho nel club, quindi come vi consiglio sempre, fateli con i vostri giocatori, perché veramente non vale la pena. Non trovi niente in questi vacchi. Io purtroppo mi diverto e non so che fare con i miei giocatori, quindi li butto qua dentro per fare questi. Quindi l'intesa sicuramente non ci arrivate con questi giocatori, perché non sono comprati, quindi cambierò un po' in l'intesa, però più o meno così dovete impostare la squadra. Ok. Vediamo, vediamo, vediamo. No, non apro i pacchetti, vi dico subito perché. Perché siccome per sbaglio non mi sono qualificato alla weekend league, ho fatto la registrazione il giorno dopo, quindi era scaduta, e ne avendo i pic e coso mi metto qualche pacchettino da parte per giovedì, così almeno giovedì abbiamo qualche pacchettino da spacchettare. Quindi ragazzi, questa è stata la nostra sfida. Noi Noi